A Willow Coffee trovi cialde e capsule compatibili con vari sistemi, macchine da caffè, aromatizzati, marmellate e succhi di frutta bio, biscotti artigianali ed in esclusiva la cioccolata militare. Willow Coffee è a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto, 136. Prosegue a Montoro la preparazione della Cavese alla gara di domenica in programma a Francavilla sul Sinni e la formazione metelliana ci arriverà in condizioni che sono un po' da decifrare. Mister Troise ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche legate alle condizioni di alcuni giocatori. Dei tre che avevano saltato la partita con il Gravina per febbre, è stato solo Lomasto quello che ha potuto allenarsi un po' di più con la squadra. Mentre Aliperta e Bacio Terracino hanno svolto fino a ieri lavoro a parte. Anche Banegas si è allenato in disparte, mentre alle prese con l'influenza ci sono stavolta Gaeta e Anzano. Stanno meglio di domenica scorsa comunque Foggia e Altobello, i quali dovrebbero essere pronti a giocare anche dall'inizio. Squalificato il giocatore classe 2004 Mattia Maffei in difesa, c'è bisogno di sostituirlo e al momento il più accreditato è Francesco D'Amore, coetaneo, che ha imparato il ruolo di terzino, ma nel caso Troise non dovesse recuperare Anzano, ulteriore atleta del 2004, dovrebbe convocare, oltre al giovane attaccante Cuomo, anche egli del 2004, pure un difensore delle giovanili per portarselo eventualmente in panchina. Di sicuro la Cavese in questo periodo non è fortunata per le assenze, anche perché la mancanza di cinque elementi dalla formazione titolare si era fatta sentire contro il Gravina, perché dopo un primo tempo ben giocato le idee si sono annebbiate nella ripresa. Tuttavia ci sono giocatori che sono risultati utili, come Salandria, impiegato a un certo punto in difesa, posizione per lui inedita, e come Cappa, che ha cercato di dare più velocità a un reparto offensivo che stava venendo meno. Ed è possibile che proprio Riccardo Cappa abbia una chance domenica a Francavilla, anche dall'inizio, nel caso Troise decida di confermare la formula a tre punte. Di sicuro la Cavese avrà bisogno di vincere in Lucania, per poter rafforzare il primo posto nella Serie D girone H e presentarsi da capolista alla gara successiva prevista a Cava con il Casarano, che è considerata complicata visto il valore dei Salentini.